Puoi prestarmi una penna? Let's meet at the cafe downtown this afternoon. Ci incontriamo al caffè in centro questo pomeriggio. I couldn't sleep well last night. Non ho dormito bene la scorsa notte. Could you help me find my keys? Potresti aiutarmi a trovare le mie chiavi? Mary's sister will study abroad next year. La sorella di Mary studierà all'estero l'anno prossimo. What time did they catch the bus to the city center? A che ora hanno preso l'autobus per il centro città? She's going to the gym after work to do some exercise. Dopo il lavoro va in palestra per fare un po' di esercizio. Domani mattina ho una riunione importante. sta aggiornando i suoi profili sui social media per condividere le sue foto di viaggio recenti. Robert's co-workers organized a farewell party. I colleghi di Robert hanno organizzato una festa di addio. La previsione del tempo diceva che avrebbe piovuto quella sera. Abbiamo incontrato un amico per vedere un film ieri sera. Puoi aiutarmi a portare queste scatole? Sono andato in biblioteca per restituire alcuni libri. Puoi prendere del latte mentre torni a casa dal lavoro? We're going to have a barbecue in our backyard this weekend. Faremo un barbecue nel nostro cortile questo fine settimana. Marta's birthday party guests will arrive in an hour. Gli ospiti della festa di compleanno di Marta arriveranno tra un'ora. She went to the doctor's office for a check-up this morning. È andata dal medico per un controllo questa mattina. Let's plan a trip to the beach next weekend. Facciamo un viaggio in spiaggia il prossimo fine settimana. I need to find a gift for my sister's birthday. Devo trovare un regalo per il compleanno di mia sorella. L'amico del mio cugino lavora come chef in un famoso ristorante. I'm going to the bank to deposit some money into my account. Vado in banca per depositare dei soldi sul mio conto. Ci incontriamo con i nostri genitori per cena al loro ristorante preferito stasera. She's volunteering at the local animal shelter this Saturday morning. Sabato mattina farà volontariato al rifugio per animali locale. Il film che abbiamo visto al cinema ieri sera era molto emozionante. E' andato al museo d'arte per vedere la nuova mostra questo pomeriggio. Abbiamo fatto un mercatino delle pulci sabato scorso per vendere alcuni vestiti e mobili usati. Dopo il lavoro, di solito facevo una passeggiata nel parco per rilassarmi. I bambini del quartiere stanno giocando a calcio nel parco. Dopo il lavoro, lei fa una lezione di yoga. Domani sera andremo a un concerto in centro. Ha fatto pratica al piano per il suo prossimo recital. La loro squadra di calcio si sta allenando per la partita di domani. Sono andato al mercato per comprare frutta e verdura fresca. Hanno ridisegnato il loro soggiorno lo scorso fine settimana. Lei ha organizzato una cena per i suoi colleghi ieri sera. Gli studenti universitari hanno preparato una protesta ambientale. Ho incontrato il mio amico per un caffè al nostro bar preferito. Questo fine settimana abbiamo visitato degli amici che abitano fuori città. Hanno organizzato un picnic in campagna domenica scorsa. Gli amici di mia sorella stanno pianificando una gita al mare. Domani mattina andranno a fare escursioni in montagna. Sta studiando per l'esame alla biblioteca stasera. Vuoi fare la spesa insieme questo fine settimana? Ha cucinato la cena per la sua famiglia ieri sera. Il capo dipartimento ha tenuto una conferenza sul leadership ieri. Siamo andati a una partita di baseball sabato scorso pomeriggio. Sta portando il suo cane a fare una passeggiata in parco questa sera. Andremo a un evento di degustazione di vini venerdì sera. Il partner del mio migliore amico sta pianificando il loro matrimonio per l'estate prossima. Hanno partecipato a un incontro di scambio linguistico ieri sera. Ha iniziato un nuovo lavoro nella sede centrale dell'azienda la scorsa settimana. sta condividendo le foto delle vacanze su Instagram per documentare il suo viaggio. Il gatto di mia nonna si nasconde sempre sotto il divano. Domani andrà a fare brunch con la sua famiglia. Ho partecipato a un workshop sulla meditazione mindfulness lo scorso fine settimana. Andremo in campeggio in montagna il prossimo mese. Il ristorante dietro l'angolo ha offerto una promozione speciale la scorsa settimana. Il ristorante dietro l'angolo ha offerto una promozione speciale la scorsa settimana. Domani pomeriggio andranno al mare a fare surf. Ho organizzato un gruppo di studio per il nostro prossimo esame. Ha tenuto un corso di cucina al centro comunitario. Ha aderito a un club del libro per incontrare nuove persone. I volunteered at the animal shelter last Saturday morning. Sabato mattina ho fatto volontariato al rifugio per animali. Hanno pianificato una gita fuori porta in campagna. ha partecipato a un webinar sulla pianificazione finanziaria ieri pomeriggio. Gli amici di mia madre sono andati a fare yoga insieme ieri pomeriggio. Siamo andati a uno spettacolo comico al teatro locale venerdì scorso. ha imparato a suonare la chitarra nel tempo libero. Ha imparato a suonare la chitarra nel tempo libero. Domani sera incontrerà i suoi amici per cena in un nuovo ristorante. Gli studenti del corso di inglese stanno facendo un esame oggi. stiamo pianificando un viaggio su strada attraverso il paese l'estate prossima. Il mio amico adotterà un cane salvato dal rifugio questo fine settimana. ha esercitato la sua presentazione per la conferenza della prossima settimana. Il negozio di animali dell'angolo ha uno sconto sul cibo per gatti. sta imparando a parlare italiano online con un'applicazione linguistica. domani mattina ha fatto controllare la macchina dal meccanico. ho seguito un workshop di fotografia per migliorare le mie abilità. La figlia del mio insegnante ha studiato medicina all'università. hanno fatto volontariato a un evento di beneficenza locale lo scorso sabato. ha preparato biscotti per i suoi colleghi come gesto di ringraziamento. ha preparato biscotti per i suoi colleghi come gesto di ringraziamento. il cane del vicino ha abbaiato tutta la notte. ha partecipato a un webinar sulle competenze di gestione del tempo ieri. è andato a un evento di degustazione di vini con i colleghi giovedì scorso. abbiamo organizzato una serata di giochi a casa nostra lo scorso fine settimana. l'albero del giardino doveva essere potato prima dell'arrivo dell'inverno. domani mattina andrà a fare una corsa nel parco. ho incontrato il mio partner di scambio linguistico per praticare lo spagnolo. hanno pianificato una serata cinematografica con gli amici venerdì scorso. il giardino di mio nonno è pieno di fiori in primavera. ha seguito un corso di danza per imparare la salsa. si è preparato per un colloquio di lavoro la prossima settimana. siamo andati a un mercato contadino per comprare prodotti biologici. il vicino del secondo piano ha organizzato un mercato di seconda mano. ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa per sua moglie. mi incontro con un gruppo di amici per un picnic in parco. domani mattina avrà una videochiamata con i suoi nonni. sono andato all'inaugurazione di una mostra fotografica stasera. sto considerando di cambiare lavoro. sto considerando di cambiare lavoro. la biblioteca locale ha ospitato un evento di firma libri con un famoso autore. sto considerando di cambiare lavoro. sto considerando di cambiare lavoro. sto considerando di cambiare lavoro.